Musica Cari amici benvenuti in questo nuovo video di Shakes and Fidget Scusa devo andare un attimo al gabinetto No, 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 non è possibile Ogni volta che cominciamo devi subito correre al gabinetto Ma un attimo faccio fretta Stavolta no Ora piuttosto vi faccio vedere il mio personaggio Perché se vi ricordate è da un po' di tempo che ho bloccato al livello 85 Queste volte come vedete sono ormai quasi al livello 94 Sono salito di oltre 8 livelli in quest'ultime settimane Perché finalmente ho trovato un sistema ottimale Per la mia amnesia costante Sul fatto di tenere il mio browser aperto su questo gioco Voi sapete che questo è un gioco gratuito Trovate il link in descrizione Se vi volete iscrivere andate nel server internazionale 1 Così che potete giocare insieme a noi ed entrare nella nostra gilda Hai una cacca nell'inventario E si putza tantissimo Non vi consiglio di venire nel mio inventario Shakes and Fidget è anche un'applicazione per smartphone Se la volete scaricare Almeno vi manda la notifica quando ha finito una missione E vi ricordate di poter andare a fare altre quest nella taverna In modo da potenziare il vostro personaggio Prendendo più punti esperienza possibile Me ne sono comunque dimenticato abbastanza volte Visto che è uno dei pochi giochi in cui vorrei Che mi riempisse di notifiche per dire Ehi giocami Ci sono altri giochi che dicono Ehi ma mi stai tradendo con qualche altro gioco Gioca con me E invece questo no Questo qua non mi mandava le notifiche Quindi comunque me ne sono dimenticato abbastanza giorni Ma me ne sono ricordato un po' di più E sono riuscito a salire di parecchi livelli in poco tempo E per questo motivo Parlando della nostra carissima gilda Che al momento è di rango 302 in tutto il mondo internazionale Siamo salite tantissimo Siamo veramente contenti di come stanno andando le cose E dunque anche questo mese Alzeremo il minimo livello da 50 a 60 Quindi prima del nostro video di fine marzo Dovete cercare di essere almeno di livello 60 Per restare nella gilda E andremo avanti così mese dopo mese Ad eliminare i 10 livelli minori Finché non arriveremo almeno a livello 100 Come livello minimo A quel punto decideremo un po' Come gestire la gilda Ma visto che purtroppo La nostra gilda permette solamente 36 membri su 50 Perché i funghetti Che prima potevamo donarli facilmente Adesso sono diventati impossibili da donare A meno che non vengano acquistati Abbiamo quindi deciso Invece di investire i soldi In spacchettamenti di carte vari In un pacchetto di 600 funghetti Che tra l'altro oggi è anche scontato del 20% Quindi abbiamo 100 funghi extra bonus Spargando 25 euro Così che possiamo darli Diciamo dedicarli a tutte le persone Che comunque hanno creduto e voluto questo gioco In modo da dire che noi ci teniamo tanto Che la gilda Eterna Love Possa proseguire il suo cammino verso l'Olimpo Quindi non ho mai fatto un acquisto Ora vediamo e prendiamo tutti Con dei stifonghettini Acquista E paga adesso elaborazione in corso Siamo riusciti a fare l'acquisto In questo modo avremo i nostri 600 funghetti extra Olè guardate Ecco fatto Abbiamo adesso il posto per il 37esimo membro E donerò tutti gli altri 580 funghetti alla gilda E vedevo di potenziare principalmente la fortezza Ma comunque volendo possiamo potenziare anche il tesoro In modo da avere un bonus oro aggiuntivo Anche facendo i raid questo aumenta Oppure possiamo avere anche un bonus di esperienza Quindi cercherò comunque di fare Sia entrare più persone Sia comunque di dare dei benefici Alle persone che supportano questa gilda da tanto tempo E quindi meritano di avere il massimo anche da parte nostra E già che ci siamo abbiamo avuto questa idea Vogliamo promuovere due nuovi ufficiali Che ci daranno una mano A organizzare l'attacco con altre gilde Ed eventuali altri raid Non potranno cacciare via nessuno Questo resto è una prerogativa nostra Ovviamente non vogliamo mai cacciare nessuno Al massimo cerchiamo di lasciare il posto A persone che stanno giocando di più a questo gioco Comunque visto che abbiamo Pirrodri e Ferro Che tra l'altro sono fortissimi Sono entrambi di livello 190 I nostri due con livello più alto di tutta la gilda E comunque ci giocano da tanto E ci giocano molto spesso Direi che è tempo di promuovere Non so come si fa Aspetta Come funziona Lo posso fare anch'io Lo puoi fare solamente tu Vogliamo che capiate Quanto siate importanti per noi In ogni cosa che fate E visto che comunque questo gioco Mai ci giochiamo da tanto Ti ho appena declassato E allora me ne vado Non sono più Faccio Ah no Ecco Ecco Meno male Mi diverto male Sei persona crudele Ora ti tolgo Posso toglierti dal bossaggio Non puoi Perché no? Ma ti ignoro Ti ignoro così Ma come mi ignoro? Cosa vuol dire? Non tutti sono dell'idea di usare soldi per i giochi Però questo match giochiamo da tantissimo È una cosa comunque del canale Di una community di cari amici E ci sembra comunque giusto Perché può essere un modo per ringraziarvi Per dare a più persone la possibilità di giocare con noi E anche un bonus aggiuntivo come punti esperienza e oro A quelli che già stanno giocando con noi da tempo Adesso però passiamo a una cosa interessante Guardate un po' il mio inventario Oltre al fatto che è pieno E adesso è stato appena aggiornato Shakes and Fidget Dove è stato aggiunto Un nuovo personaggio Che potrebbe darvi una mano A buttare via la roba Che non vi serve più Il fabbro Ma prima guardate Ho ben due uova nell'inventario Come funziona? Lo butto qui Eccolo Eccolo scogliato Ho trovato lo scogliato Lo scogliabola Ti corre no? Ti corre Ecco tra l'altro Lui è un esploratore Quindi non ti servirà a potenziarlo particolarmente Tu dovresti potenziare di più i maghi Secondo me Ok Buona sapersi Invece d'acqua Avrò qualcuno di super mega epico Non voglio Non voglio questa schifezza Voglio qualcosa di bello Tipo il pinguino Oh 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 Il pinguino è bellissimo Il pinguino Ecco Hai fatto il pinguino? C'è il pinguino epico È un guerriero Non ti serve Non me ne va bene una No Facciamo un veloce salto alla fortezza Come vedete Devo aver trovato una gemma Penso che ha fatto Pimpim In questo momento Una gemma blu della forza Che non ti serve a niente Ma ma Non mi ne va bene una Ricordatevi sempre Di passare Nella vostra fortezza Perché comunque Potete anche Ottenere punta esperienza E questi sono molto cordi Che naturalmente Oltre ad andare nella taverna Anche l'accademia Vi darà la possibilità Di salire di livello Più velocemente Adesso direi anche Di provare a fare Un piccolo attacco Tanto mi ne va male Questo è male Vale No malissimo Proprio schifo È troppo difficile Vabbè tanto ho un sacco di soldi Da buttare via Oh questo è meglio Questo è meglio Dai giusto qua Giusto dieci Preciso preciso Prossima Vai 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 Troppo forte Ma se perdi metto a ridere Guarda Ma no Ma non si ride con me Siamo leggende Andiamo a fare Andiamo a fare un veloce salto Qui nella mappa Del gioco Perché Come potete notare Qua c'è lo shop delle magie Qua c'è l'armeria E qui vicino C'è questa piccola Fornace Che sembra proprio Il fabbro Ebbene si guardate Anche se è nascosto Da mille oggetti Le gemme Sicuro che non te le prendi Te lo dico Non le vuole Qui dietro Si nasconde il fabbro Che è molto utile Perché può migliorare Un attributo Dell'oggetto Smontare un oggetto O estrarre la gemma Dall'oggetto Quando avete un oggetto Che non vi serve Per esempio Questa collalina Del gangster Dei superpoteri epici Che sembra quella Che avevo in Roblox Nell'ultima live Del future tycoon Andate qui E fate smontaggio Vedete Vi da un pochino Di oggetti In questo caso Mi da solamente Ferro Non le gemme Oppure andate ancora avanti Per esempio C'ho questo qua E mi dice Che anche questi Sono un po' peggiori Di quelli che ho Li vado a smontare E di nuovo Ho accumulato Ancora un pochino Di ferro E gemme Prova per esempio A prendere un oggetto Nel tuo inventario Che ti piace E dallo al fabbro E' interessante Posso potenziarlo Per esempio Prendi la cacca La cacca La dai Dici migliorami la cacca Sì La butti laggiù E la cacca migliorerà Sì E ora Ah Ti ho scritto Oggetto migliorato però Uno per Magari più volte lo fai Lo fallo Se non ho soldi Aspetta butto via questo Aspetta butto via questo Tanto non me ne faccio di niente Non devo tagliarti le unghie adesso Posso poter No mi manca un pezzettino Mi manca un pezzettino Posso buttare via questo No non la butterei via quella Neanche quello Butterei ancora Finalmente posso potenziarmi Di nuovo questa La cacca Che è 161 Adesso è 166 Non fatele Ma aumenta Aumenta sempre di più L'attributo Ma che schifo Vabbè immagino che magari Dopo dieci volte Sia diventato qualcosa di buono Però l'ho fatto più che altro Per fare un test Voi state attenti A quello che scegliete Di potenziare Se no non riuscirò mai più A togliermi questo schifo Da sotto le suole Ma avevi detto Che alla fine del video Ci potevo andare al gabinetto E va bene Va bene Certo che non puoi proprio Farne almeno E mi scappa adesso Guarda che schifo Ma che schifo Tira lo sciacquone perlomeno Tira la catena E trova Un arco È bello almeno Un super mega arco Vediamo Hai trovato L'arco di precisione Della mente superiore Ma intelligenza A me serve destrezza È tantissima intelligenza E lo danno a te Ma non mi serve a niente Ah Vale di più Quest'arco di tutti i soldi Che ho da parte Ma che cattive Cosa me ne faccio Delle tutta questa intelligenza Dalla me Ma no Anche nella vita reale Mari non ti farebbe In effetti Vabbè Mi considero con la prugna Allora sono quel gabinetto E vabbè Giusto Giusto Almeno mangiamoci la prugna Vai Buon appetito E mentre Kiria Si gusta la sua prugna Ringraziamo Tutte le fantastiche persone Che ci hanno mandato Dei disegni Dedicati Alla specie Di abominio Che abbiamo inventato Nello scorso episodio Di shakes and fidget Ovvero Di disegnare Kiria vestita Da drago rosa Con perizomi assurdi Travata Tacchi Una dondina in tasca L'anello al dito Quindi davvero Grazie a tutti Avete creato Delle cose Stupende E ci siamo divertiti Tantissimo A vedere che Anche se diciamo Delle cose completamente Foli Ci aspettiamo Che nessuno Abbia voglia Di impazzire Come noi Siete già Completamente pazzi E questo fa sì Che i cari amici Sono proprio Un bellissimo gruppo Con biglietto Di sono andata Verso il centro psichiatrico Gli eternal love Grazie a tutti Per essere stati Con noi E alla prossima Con Gli eternal love Ciao Mi sono volati I miei cristallini Ma poverini Ci vedo più Ciao